Buongiorno a tutti, sono Paola del gruppo Da Prof per Prof. In questo periodo avete sentito Antonio Berardino di Formazione Rete che vi parla durante le dirette sul canale YouTube, oppure nei webinar gratuiti, oppure sulla pagina Instagram o sulla pagina Facebook del percorso Strumenti per la Cittadinanza Digitale. Di che cosa si tratta? Di un percorso rivolto agli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Vediamo come ci si può iscrivere. Entriamo in piattaforma Rete per trovare tutte le informazioni a nostra disposizione. Qua in alto, nella barra blu, dove c'è Home, Dashboard, Chi siamo, eccetera, eccetera, andiamo in Cittadinanza. Clicchiamo sul triangolino e vediamo che compaiono i percorsi differenziati per classe. Quindi per la classe prima, seconda e terza della scuola primaria, per le classi quarta e quinta della scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado. Vediamone uno per esempio. Classi quarta e quinta. Prima di procedere con il tasto Iscriviti ora, è necessario leggere con attenzione. Qua sotto trovate tutti i riferimenti. In particolare, la prima cosa da fare è scaricare il modulo di adesione, cliccando in questo punto del testo. In questo modulo, che poi vedremo più nello specifico, dovrete inserire i vostri dati e il vostro dirigente dovrà porre la firma e il timbro. Una volta avuta questa conferma dal vostro dirigente, dovete effettuare il login in piattaforma e iscrivere la vostra classe. Poi lo vediamo nello specifico. Proseguendo sotto con la pagina, troverete varie informazioni. Io vi consiglio di scaricare la proposta in formato PDF, in questo modo, cliccando qui, perché così potete fornire al vostro dirigente un'idea di massima di che cosa volete iscrivere la vostra classe. Qui vediamo tutta la normativa di riferimento, quali sono i contenuti del percorso, che ovviamente vi lascio leggere, come si articola il percorso, quindi in otto appuntamenti online, il secondo martedì del mese, da ottobre a maggio, con indicate già tutte le date e gli orari. Questi ovviamente sono gli orari che si riferiscono alle classi quarta e quinta della primaria. Se andate nelle altre pagine, troverete orari diversi. Proseguiamo. Come si partecipa al webinar? Poi lo vediamo anche questo nello specifico. È previsto l'attestato di partecipazione, e questo sicuramente è un punto di forza e di gratificazione per l'impegno che avranno mostrato i vostri alunni e da chi è promossa l'iniziativa e chi è il formatore. E i contatti, in caso, aviate bisogno di maggiori informazioni. Quindi, come prima cosa, c'è da compilare il modulo di adesione che avete dovuto scaricare? È questo. Andiamo sotto. Leggete poi con attenzione. Quindi, come si compila? È molto semplice. Quindi, istituto scolastico, mettere il nome del vostro istituto e la località. Nome e cognome del docente partecipante. Numero di cellulare personale del docente partecipante. La classe. Quindi, una sola classe per ogni docente. Quindi, indicare la classe, il grado scolastico, affinché ci siano le informazioni necessarie per avere poi l'attestato finale. La data. Sotto poi il dirigente dovrà mettere il timbro e la firma e la carta intestata per tutto il documento. Sotto potete leggere anche il consenso al trattamento dei dati personali. Diciamo che è tutto, si svolge in sicurezza, perché le classi, gli alunni vedono il formatore, quindi vedono Antonio Berardino, ma il formatore non vede assolutamente i visi dei bambini. E questo è una garanzia per la privacy. Ecco, questo è il modulo di adesione. Quindi, una volta che il dirigente ve l'ha riconsegnato, firmato, vediamo come procedere con l'iscrizione. A questo punto, bisognerà andare sempre in piattaforma a rete, effettuare il login, andare in cittadinanza, e questa volta il tasto iscriviti ora ci servirà. Ecco, andiamo, torniamo nella piattaforma a rete. a questo punto è necessario accedere con le proprie credenziali. Ecco che sono loggata, entriamo, ad esempio, classe quarta e quinta, clicchiamo su iscriviti ora, compare il nome nostro, con cui abbiamo fatto accesso, la nostra mail, dobbiamo inserire il numero di telefono e qui dobbiamo caricare il documento, il modulo di adesione, firmato dal dirigente. In che modo? Si può procedere per trascinamento. Quindi, con questo pulsante dei due quadrati, mettiamo un po' in piccolo la pagina. Io avevo salvato sul mio desktop il documento, quindi per trascinamento lo inserisco in questa posizione. Si sta caricando e poi procederò con invia richiesta. In questo modo la classe sarà iscritta regolarmente. Poi, qualche giorno prima del webinar, riceverete una mail da formazione a rete con la promemoria della data e dell'orario e scorrendo la mail troverete il pulsante partecipa al webinar. Cliccando su questo tasto potrete al momento del webinar, quindi qualche minuto prima dell'orario stabilito dal calendario, partecipare con i vostri alunni. Spero di essere stata chiara ed esaustiva. In caso di bisogno contattate Formazione a rete. Grazie.